In tempi confusi occorrono idee chiare, ma le idee chiare in tempi confusi somigliano spesso a prese di posizione derivate dal carisma e dalla necessità di imporre un pensiero più che da una condizione di causa vera e propria. E' certo possibile sacrosanto che ognuno dica la sua, ma già che siamo con i piedi in una rivoluzione industriale bella e buona, va detto che, perlomeno in questa prima fase, nessuno può dire come affrontare la tempesta perfetta a ragion veduta. E quindi, come sempre, in effetti, stavolta più solerti del solito, arrivano i corsari della prima ora con le idee già chiarissime, pronti a venderti il corso definitivo per fare soldi con chat GPT. Somiglia veramente alla corsa all'oro tra le valli e i corsi d'acqua del Klondike alla fine del XIX secolo. E chi conosce la storia sa che quelli sono stati tempi senza legge né regole, in cui succedeva tutto e il contrario di tutto. Tra gli osservatori più cauti spicca Emanuele Vaccari, che saluto, che ammonisce i naviganti sul fatto che è troppo presto per mettersi a sviluppare interi progetti con chat GPT. Sarebbe in cauto, secondo il Vaccari, lanciarsi a capofitto nella pubblicazione massiva di contenuti generati con questa tecnologia. Lui scrive così, Chat GPT è uno strumento che lavora con i pattern. Google ha fatto centinaia di miliardi di dollari studiando i pattern. Google ha probabilmente il suo chat GPT pronto da anni. Dopo l'uscita di Google Sparro direi togliamo anche il probabilmente. Google nel medio periodo massacrerà i siti fatti in automatico, scrive il Vaccari, tramite tecnologie simili. Lo ha già fatto con Phrase, mi dicono i ben informati, perché i pattern, come già detto, è molto bravo a scoprirli, dove gli interessa farlo. A Google non interessano tutte le query di Google, i vostri screenshot di SERP che sembrano del 2013 non provano nulla. Emanuele suggerisce dunque di aspettare e osservare, magari rafforzando le basi della SEO, invece di lanciarsi nella corsa loro del posizionamento con i testi magicamente generati. Del resto, ultimamente si parla del fatto che Yandex utilizzi logiche precise di Information Retrieval con l'algoritmo OKAPI BM25 per stabilire la rilevanza di un contenuto testuale. Quindi è vero che Google sarebbe del tutto in grado di scomporre un testo e coglierne il modello di linguaggio sottostante. E' pur vero che i Googlers hanno dichiarato che non penalizzeranno l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in sé, ma gli eventuali utilizzi distorti che da tale utilizzo emergeranno. Le aberrazioni. E' pur vero che al momento non ho trovato un tool in grado di distinguere nel 100% dei casi un testo sviluppato con CiaGPT da un testo originale. Nemmeno lo stesso CiaGPT riesce sempre a fare tali distinzioni. Per me è fin da ora il momento di utilizzare CiaGPT come uno strumento utile a fare prima e meglio, ma non come un sostituto del copy in assoluto. Così come l'aspirapolvere ti permette di pulire un pavimento prima e meglio di una scopa, allo stesso modo CiaGPT ti permetterà di scrivere un contenuto prima e meglio di come faresti senza usarlo. A tal proposito mi è piaciuta la risposta di Enrico Altavilla sulla polemica nata da parte di chi sostiene che CiaGPT sia uno strumento senza anima. Enrico dice sì, anche un martello è uno strumento senza anima. Ti serve che ne abbia una? Secondo me è un buon momento per approfondire gli studi sulla subtopic research e riprendere i concetti di keyword prominence e keyword proximity, in particolare cosa sono i sottoargomenti e come vanno sviluppati nel testo al di là della paragrafazione. Aggiungi un buon controllo editoriale umano e otterrai l'ausilio tecnologico di cui hai bisogno per produrre contenuti anche migliori di quelli che tiri fuori adesso e in meno tempo. In conclusione mi sento di dire che si può già andare al di là dei test e operare direttamente sulle pagine del tuo sito web a qualunque livello di argomento trattato, sia per le pagine da integrare che per i nuovi contenuti da redigere. Si tratta solo di vedere il martello laddove tanti credono di vedere il carpentiere. e non so se mi spiego.